Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. La tredicesima edizione del Rome Independent Film Festival si aprirà con Return to Zero di Sean Hanish, storia di una difficile maternità che vede nei panni della protagonista Minnie Driver. Quest'anno la selezione della manifestazione sarà particolarmente attenta ai temi sociali. Il festival si svolgerà dal 16 al 23 marzo al nuovo Cinema Aquila. Nella giornata di chiusura ci sarà Franco Battiato per la proiezione del documentario su di lui, Temporary Road, Una vita di Franco Battiato, di Giuseppe Pollicelli e Mario Tani. Ma parliamo ora di nuovi progetti con Elena Bonancarter che tornerà nel Paese delle Meraviglie. Secondo Variety l'attrice sarà di nuovo la regina di cuore di Alice in Wonderland per il sequel diretto da James Bobbin che si intitolerà Through the Looking Glass. Sono a cuore della partita anche Johnny Depp e Mieva Sicosca. Rimaniamo in ambito fiobesco perché Runei Mara sarà Tiger Lily o Giglio Tigrato, la principessa indiana che vive a Neverland, l'isola che non c'è, dove Peter Pan la salva dai pirati. Succederà in Pan, film in 3D diretto da Joe Wright. Nel cast la aspettano Hugh Jackman nel ruolo del pirata barbanera e Garrett Hedlund in quello di Capitano Uncino. Il film è un prequel della storia originale. Intanto Carla Gugino è entrata a far parte del cast di San Andreas, disaster movie in 3D che racconta di un terribile terremoto in California, dove si trova appunto la faglia del titolo. Protagonista del film Dwayne Johnson, la direzione è firmata da Brad Payton. La Gugino sarà l'ex moglie di Johnson, un vigile del fuoco delle forze speciali che dopo il terremoto si mette in viaggio con lei per raggiungere la figlia San Francisco. Le riprese inizieranno quest'estate in Australia per un'uscita prevista nel giugno 2015. Chiudiamo con un'iniziativa che è una cannonata in tutti i sensi. Arnold Schwarzenegger possiede infatti un vero carro armato. È un pezzo dell'artiglieria austriaca della Seconda Guerra Mondiale che l'attore usa nel tempo libero per distruggere oggetti vari. Contribuendo con una donazione al programma After School All Stars per aiutare i bambini più disagiati ad avere attività extrascolastiche mirate alla salute fisica e un migliore sviluppo educativo, potreste vincere un pomeriggio da spendere con Schwarzenegger a giocare con lui sul carro armato. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook e il canale YouTube di Visionaire. A presto e buon cinema a tutti! Grazie a tutti!